Bella a tutti, grazie a tutti e ben ritorno a tutti in un nuovo video Oggi siamo qua su un episodio delle Skywars E ragazzi prima del video volevo solamente dirvi che mi dispiace veramente tanto per l'assenza che ci sta sul canale Però sono molto impegnato con la scuola Infatti sto cercando di finire il primo quadrimestre almeno in modo bello Senza possibilmente avere materie sotto anche se sarà difficile Però ragazzi adesso con l'arrivo delle vacanze di Natale vi prometto che ci saranno veramente tanti video E quindi ragazzi io vi ricordo sempre di rimanere attivi sul canale, di spolliciare e di commentare E ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio il video, bella Bella a tutti, grazie a tutti e ben ritorno a tutti in un nuovo video Oggi siamo qua su un nuovo video sulle Skywars Ehm, piccolo lag Ok non è caduto, porca Eva Vabbè fa niente ragazzi Allora, dato che lo sto tenendo un pochettino impegnato Io ci vado davanti Lo uccide così ma Minuto di silenzio tattico L'ho fatto fuori proprio in modo epico Adesso in teoria, vabbè Vabbè dai precediamo quello lì al centro va Ok, madonna ragazzi La proagine qua si fa proprio sentire Ok non c'è niente Poi diciamo così Cos'è che mi ha dato? Una bistecca, ma vaffanculo va Tè e la bistecca Ok, prendiamo tutto questa roba qua Ok, prendiamo anche tutto di qui Quindi tac tac E torniamo su Su ci devono essere le belle cose Invece non c'è un dannato cazzo Va bene Allora Prendiamo tutta questa roba qui Ah qua c'è un'altra però Eccola lì la proagine Lo sapevo che non mancavano alcune cose Tipo gli stivaletti così Questo così E basta Io direi che tipo queste cose qua Ragazzi io qua li sento però Li sento Oh cacchio Sì vabbè Eh ho preso due spade Ma me ne serve solamente una Perché io sono un pro Shoot Come dice il buon caro clothing Sperando che nessuno ha le solite stronzate Solite palline di neve o uova Che non mi hanno dato stavolta A parte che mi sa che ce n'erano tre di cesta No Due o tre di cesta Non lo so quante cesta c'erano Comunque so che non ce n'è Mi pare di averne dimenticato qualcosa Sono un coglione Sono un coglione Ma mi sono salvato al pelo del culo Ok vaffanculo Vaffanculo Oh minchia Ma non ci posso credere Giusto 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 Allora io ho fatto una Questa cosa qua Tattica Ovvero mettere l'enderman qua Prenderlo a schiaffi Non con questo Dai no Le prendo dall'enderman No 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 Che fail di merda Sono un coglione Sono un coglione Ma di quelli forti Minchia Non merito di vivere Veramente Cioè basta 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 Addio Ciao Va bene E ragazzi quindi io direi che questo video può finire qui Come sempre iscrivetevi Commentateci se non mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Passate dai canali Che saranno in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Bella